E' il secondo epilogo della battaglia giudiziaria a colpi di querele tra due ex sindaci, Vito Bono da una parte e Pippo Turco dall'altra. Dopo la prima condanna pronunciata dal giudice di pace al pagamento di una multa per delle frasi giudicate ingiuriose e lesive della dignità di Vito Bono, condanna confermata in appello e procedimento adesso in Cassazione per l'ultimo grado di giudizio, ieri pomeriggio il giudice monocratico del Tribunale di Sciacca Rosario di Gioia ha inflitto a Pippo Turco una nuova condanna, questa volta a 5 mesi, pena sospesa per diffamazione sia nei confronti di Vito Bono sia, in quest'altro caso, anche nei confronti della ditta Bollara. Turco condannato anche al pagamento delle spese legali quantificate in 2.800 euro, mentre per il risarcimento del danno, le parti offese hanno richiesto 50.000 euro a testa, il Tribunale ha rimandato la decisione al giudizio civile. I procedimenti intentati contro Pippo Turco erano stati due, uno da Vito Bono, l'altro dai Bollara, tuttavia su richiesta della stessa difesa, sono stati a suo tempo unificati. Sullo sfondo le dichiarazioni di Pippo Turco durante un intervento in aula, al tempo in cui era consigliere comunale, nella consigliatura in cui sindaco era proprio Vito Bono, argomento il pagamento del famoso debito fuori bilancio di 700.000 euro da parte del comune di Sciacca alla ditta Bollara per i danni causati all'edificio di sua proprietà dall'esondazione del Canzalamone dei primi anni 90. Pippo Turco aveva sostenuto, tra le altre cose, che qualcuno avrebbe dato un biglietto all'allora assessore regionale Luigi Gentile per cambiare la destinazione urbanistica dell'immobile di proprietà dei Bollara e che Vito Bono sarebbe stato un coniglio che andava al comune per farsi gli affari di famiglia. Affermazioni che il giudice ha giudicato infondate, ritenendo le lesive della dignità delle parti ricorrenti. Ecco dunque il motivo per cui Turco è stato condannato. E potrebbe non essere finita qui. Enrico Di Benedetto, legale di Vito Bono, ha annunciato una nuova querela nei confronti di Turco per una dichiarazione rilasciata durante l'esame dell'imputato al procedimento che si è concluso ieri, dichiarazione nella quale l'ex sindaco avrebbe detto che mentre Vito Bono faceva le battaglie contro Girgentiacque, il cognato veniva assunto come direttore generale del lato idrico. Un fatto, anche questo, destituito di ogni fondamento, agiremo contro Turco anche per questa ragione, dice il nostro telegiornale, l'avvocato Di Benedetto. Ad assistere legalmente Pippo Turco è stato l'ex procuratore capo di Sciacca Carmelo Carrara, oggi avvocato.